Dopo 24 ore di suspense non voluta per una conferenza stampa convocata dal sindaco di Pesero Matteo Ricci senza rilevare l'argomento dell'appuntamento è arrivata l'investitura del nuovo capo di gabinetto del primo cittadino. Si tratta di Massimiliano Amadori, attuale capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale scelto direttamente da Ricci. Sono molto emozionato, un incarico importante perché credo sostituire una persona come Franco Arceci in questo momento sia impossibile, però c'è tutta la volontà e la passione per provarci. È stato un anno molto formativo, credo che siamo riusciti ad ottenere il massimo, un capogruppo credo che si debba occupare delle delibere e dell'unità della maggioranza. Abbiamo portato a casa tutte le delibere, è una maggioranza coesa, tutti quanti hanno dato il massimo e quindi penso che i risultati ci siano stati. Il nuovo capo di gabinetto lascerà il suo posto in Consiglio Comunale che sarà preso da Cinzia Ceccaroli, già consigliera nella precedente legislatura. Amadori sarà affiancato per un anno da Franco Arceci, capo di gabinetto uscente che nonostante andrà in pensione ha deciso di restare un altro anno in municipio da volontario, in forma del tutto gratuita. Il sindaco Ricci ha pubblicamente etichettato Arceci come il cristiano Ronaldo del comune di Pesaro, l'unico veramente insostituibile ed incensato con un pubblico encomio. Abbiamo deciso insieme col sindaco di proseguire almeno per un altro anno questa esperienza per cui farò lavoro volontario insieme con il sindaco e con la volontà di aiutare il nuovo capo di gabinetto ad assumere meglio possibile questo ruolo e questa funzione. Il ruolo di capo di gabinetto è un ruolo che è molto vario e bisogna farlo interpretando le necessità dell'amministrazione comunale e del sindaco. Per cui, come dicevo prima, i ruoli principali sono raccordare la volontà politica con quella amministrativa e questo è un ruolo interno al comune. Poi c'è tutto il ruolo esterno, quello delle pubbliche relazioni, che sono relazioni col pubblico ma non sono pubbliche, con tutte le istituzioni, per tenere i rapporti con l'amministrazione comunale, cosa complicatissima, molto varia e quindi su tutti i temi che riguardano l'amministrazione comunale. Poi all'interno di questi ci sono le specifiche cose che sono state fatte, realizzate, eccetera, però dico che il ruolo di capo di gabinetto è un ruolo che ti porta a lavorare a 365 sono i gradi, 365 gradi su tutti i temi dell'amministrazione comunale, quindi o in un modo o in un altro, con maggiori risultati o con minori risultati, però quasi in ogni cosa dell'amministrazione comunale ci si sente coinvolti e si è coinvolti. Facile o difficile collaborare con questo sindaco? Per alcuni aspetti è facile, per altri invece è difficile perché è un sindaco molto esigente, soprattutto per quanto riguarda la velocità di esecuzione, però questo è un problema che per me non esiste perché io ho oltre 4.000 numeri di telefono per cui in ogni momento so a chi telefonare, da chi farmi consigliare, da chi chiedere la risoluzione di un problema, quindi la mia velocità è massima e sono numeri che sono continuamente aggiornati proprio per poter svolgere bene questa funzione.